Sì, ovviamente è un momento di luci questa sera la fiera che sta andando nel migliore dei modi il mercato che continua a previare e a riconoscere quel parlato stilistico che è un altro grande ospite di questa sera ha già anticipato e un grazie speciale a Bologna e un complimento speciale che è una città incredibile stasera ho scoperto un altro posto incredibile dell'Italia, bellissima allora speriamo che questa sia la prima di parte di manifestazione ti darò un po' di grazie senza altro speriamo che sia la prima perché abbiamo bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutti in particolare della città di Bologna colmo l'occasione peraltro per ringraziare la collaborazione delle associazioni commercianti che alle 10 e mezza offrirà fuochi d'artificio ed è un fiera di Bologna quindi è un sostenere di capito tra i banchi fuochi d'artificio fuochi d'artificio che inaugureranno questa fine appena e speriamo continuino fino all'ultimo giorno sarà indimenticabile per tutti noi grazie grazie grazie